Io vorrei dare il benvenuto all'Università storica della rivoluzione di Roma. Forse vi sarete accorti che questo non è il vicio normale, è addirittura un luogo della memoria. Voi siete entrati a Via Tasso 145, al portone a fianco 155. C'era nel periodo dell'occupazione di Roma da parte delle forze germaniche, c'era il comando germanico, quello della Viettapo e della Sicherheit Poliziai. Ed è stato qui esattamente dal settembre 1943 fino al giorno della liberazione, cioè 4 giugno 1944. Questo luogo si è mantenuto intatto, inalterato, diciamo fino a qualche anno fa. Poi c'è stata un po' una ristrutturazione di questo, soltanto di questo pian terreno, proprio per renderla un po' più accogliente, perché noi facciamo questo lavoro proprio di accoglienza delle scuole. Le scuole sono tante, quelle che vengono anche fuori Roma, addirittura anche dall'estero, anche dalla Germania, perché questo è stato non solo la sede del comando germanico, ma non so se lo sapete, queste sono state le carceri di Kattler, del colonnello Herbert Kattler, che aveva scelto questo luogo particolare, che forse si pensava al sicuro dei bombardamenti, perché questa è zona di Basilica, c'è la Basilica di San Giovanni a pochi passi, e poi c'era la sede dell'ambasciata tedesca. Quindi già da prima, possiamo dire, dell'entrata in guerra dell'Italia, già da prima, adesso state studiando la storia contemporanea, quindi questo che vi dico non mi sarà sconosciuto, c'era stata questa maledetta alleanza, fatto dell'asse tra l'Italia, la Germania, e anche, ci aggiungiamo anche a dire pura Roma, Berlino, Tocchio, che è importante, e quindi Kattler era stato inviato qui, Kattler era un posto conoscitore della nostra lingua, quindi era stato inviato qui, e aveva impiantato in questo luogo, in questo palazzo, il palazzo che aveva preso, l'ambasciata tedesca aveva preso in affitto, aveva impiantato in un istituto di cultura italiano-germanica, eccetera, eccetera, era naturalmente una specie di imparamento, insomma, per altre cose. E poi, quando ci fu l'8 settembre, l'8 settembre, voi sapete che è il momento in cui l'Italia si sgancia dalla vergognata alleanza con la Germania nazista, e però naturalmente questo, i tedeschi ce lo fecero pagare, perché pensate, ragazzi, che addirittura la sera stessa dell'8 settembre cominciarono ad entrare nella città di Roma, e quindi nel territorio vicino, le porte, i carri armati tedeschi, e quindi, questo lo voglio dire perché a me fa, mi sembra che faccia onore alla nostra città, la città di Roma è stata la prima a inventarsi la resistenza, si è combattuto subito già dalla sera dell'8 settembre e poi nei giorni successivi, il 9 e il 10 settembre. Ragazzi, chi è che ha combattuto? Voi non sapete che vergognosamente il sovrano che il giorno dopo fugge, lo capite è questo, fugge e lascia non solo la città di Roma, ma possiamo dire tutta l'Italia nelle mani dell'invasore tedesco, il quale chiaramente voleva fare vendetta sugli italiani, sugli italiani traditori, gli italiani che avevano tradito questo patto d'acciaio, di questo patto che ci aveva legato alla Germania per circa due anni e mezzo, insomma, per circa due anni. E allora che cosa succede? Che i Romani, finalmente liberi dal re che era fuggito, dai vertici dello Stato che erano fuggiti, dai generali che pure erano fuggiti, i cittadini romani, i soldati, escono dalle caserne e cominciano a combattere. Guardate che non furono delle scarabucce, alla fine la città si deve arrendere, ma si deve arrendere, sapete perché? Perché i tedeschi minacciano che avrebbero avvelenato l'acquedotto, avrebbero proprio andato a città. E allora nel pomeriggio, nel 10 settembre, quindi la battaglia di Vampa è in furia per quasi tre giorni, la sera dell'8, poi c'è il 9, poi c'è il 10 mattina, la sera del 10 settembre, la città, la città, il generale Montecolo Nero Montezemolo, che va a chiedere la tregua al generale che si arriva, e dall'11 comincia l'occupazione tedesca della città. Ecco, quindi voi vi direte adesso che c'entra invece questo luogo dove ci troviamo? Ecco, perché in questo luogo Carple, cioè abbiamo detto che era il dominus della situazione, si fa le sue carceri, le carceri in cui lui doveva essere il padrone assoluto, l'angra l'assoluto. E io vi invito, quando volete, di venire a vedere queste carceri, perché gli appartamenti di sopra sono rimasti intatti, non è stato apportato nessuna modifica, e quindi potessi un pochino immergerli nel clima di spera di quell'era. Dico solo questo, che questo è stato un luogo famoso per le torture, era fabbricerato di Atasso per le torture, perché è vero che a Roma si avrà parolato di pronunciare il nome, si diceva laggiù a San Giovanni, e quelli che l'hanno abitato qui hanno lasciato poi delle testimonianze agghiaccianti di quello che sentivano naturalmente anche queste persone torturate, e poi soprattutto la notte. Perché pensate, e dico solo questo e mi taccio, che cose scocitavano i tedeschi per coprire le grida dei torturati. Qui c'erano autoparlanti che tutta la giornata musica leggera alla tona, in modo da coprire le grida dei torturati. Una cosa straordinaria, e che tanti sono passati di qua, e lo hanno fatto a volte senza neanche, noi non sappiamo neanche il nome, perché poi alla fine, voi sapete che chi entrava nella resistenza doveva anche cambiare nome, perché se no sarebbe stato riconosciuto. Noi siamo riusciti a rintracciare soltanto 2.000 nomi attraverso schede che poi si sono ricostruite alla fine, 2.000 nomi, ma saranno anche morti di più, e molti sono anche morti sotto le torture, o sono stati fucilati, forse di una retta. E questo per dimostrare che la città di Roma voleva resistere, voleva non essere complice delle nepandezze del regime nazista. Grazie. Grazie.